E come promesso eccoci con l'ospite odierno, saluto Francesco Altan, buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Grazie anche perché ci siamo sentiti nel tardo pomeriggio di ieri, ti ho invitato e non mi hai detto di no. Grazie, quindi grazie anche perché ti ho fatto svegliare abbastanza presto stamattina. Allora, sulla tua mano sinistra c'è la creatura, la creatura che è frutto di un lavoro di equip, si può dire, delitti nella nebbia, che ci porta dove? Ci porta nel Ferrarese, dove ci sono stati, noi siamo partiti dal 1945 ad oggi, 14 omicidi irrisolti. Lavoro lungo, durato tre anni, inchiesta corposa con tutti gli atti processuali, analisi della scena del crimine, criminal profiling in alcuni casi, che ha portato alcuni studi legali a riaprire proprio questi processi e alcuni sono in fase avanzata, proprio di definizione e di condanna anche. Ecco, senti, ci portano dove? Ci portano nei paesi della bassa ferrarese, quindi a Goro per esempio, il caso di Vili Branchi, che è riportato qui dentro, ormai ha spopolato, ha fatto storia un po' dappertutto. Ci sono anche altri casi molto interessanti, il caso Minguzzi, un carabiniere che è stato ucciso vent'anni, incaprettato, sequestrato, quindi ci sono casi di omicidio. Poi ci sono anche omicidi a sfondo sessuale, perpetrati ovviamente da persone disturbate. Diciamo che la tecnologia attuale, le conoscenze scientifiche, permettono di fare un'analisi molto più attenta rispetto a quello che si faceva anni fa e laddove ci sono dei reperti conservati nella maniera giusta è possibile anche arrivare a delle condanne. Ecco, quindi delitti che risalgono a 20-30 anni fa, tecnologia attuale. Riusciamo a utilizzare la tecnologia su magari reperti un po' invecchiati? Sempre che la catena di custodia dei reperti venga assicurata, il problema è quello. Io posso avere un DNA di 30 anni fa, però se la catena di custodia non è assicurata viene invadilato tutto. C'è un protocollo ENFSI, che è un ente sovranazionale a cui abbiamo diritto che noi italiani, che impone determinati criteri, per cui se non vengono osservati questi criteri operativi, tutto viene invalidato, insomma. Quello che è successo nel caso Amanda Knox, per intenderci. Qualcuno ha combinato qualche... Eh sì, non ha seguito il protocollo, forse probabilmente non sapeva nemmeno dell'esistenza all'epoca del protocollo ENFSI, che oggi è vincolante per quanto riguarda analisi di laboratorio e analisi della scena del crimine. Ecco, a provo della scena del crimine, quanto è importante isolarla dal punto di vista dell'indale? È determinante. L'80%? Sì, sì, sì. Se pensi che fino a 20-30 anni fa su una scena del crimine si repertavano 5 prove, campioni, oggi ne reperti 45. Quindi il fatto che venga delimitata, il fatto che l'accesso sia riservato agli addetti ai lavori e basta, cambia completamente. Cioè, il rispetto della scena del crimine e il rispetto della vittima, quindi con esame vittimologico e autopsia psicologica della vittima, hanno cambiato radicalmente il mondo di fare indagini. Allora, lo dicevo prima in fase di presentazione, digiti mostro di Udine su internet e ti esce veramente il mondo. Sì. E qui ne abbiamo una dimostrazione. Tu hai parlato di delitti nella nebbia, quindi la bassa ferrarese nota, per fortuna non solo per gli omicidi, ma anche per la questione meteorologica. Quindi la nebbia, ma di delitti risolti, soprattutto di signore, purtroppo uccise il Friuli, non è purtroppo orfano. Sì, direi che il Friuli purtroppo, essendo la provincia nord-est, ha pagato un prezzo, anche rispetto alle notizie, a quello che poteva essere il clamore mediatico di questi casi. Casi molto interessanti dal punto di vista scientifico forense, perché abbiamo dal 71 all'89 almeno 14 o 16 casi, comprese le due diforni di sopra, presi in esame. Ovviamente lì non è stato fatto un case link aid, sappiamo solamente che quattro di questi casi potrebbero essere ascritti a un solo serial killer. Perché? Perché c'è la firma del serial killer, che è il taglio di tipo cesareo che va dall'otterno, bisturi, fino all'addome. E' lì. Allora, cambia il modus operandi di un serial killer, quello che non cambia mai è la firma. Questo ce lo dicono gli amici americani dell'FBI, che hanno scritto un trattato sull'argomento. E avendo loro una casistica enorme di serial killer e di vittime, parliamo di 3.500-5.000 vittime l'anno, contro le nostre 200 in 150 anni, loro possono dire benissimo, fanno scuola in tutto il mondo, insomma, da questo punto di vista. Quindi sappiamo cosa cercare per individuare e per soprattutto accorpare i delitti. Non si sa nulla o poco degli altri delitti, degli altri omicidi. Si parla di strangolamenti, si parla di strozzamenti, eccetera, eccetera. Si parla anche di lesioni post-mortem. Perché poi la matrice, soprattutto nel caso dei delitti del presunto medico, sono necromanica, perché questo agiva post-mortem, il corpo era un contenitore. Tante volte si fa confusione con la matrice sessuale, perché lì potrebbero esserci altri tipi di moventi, ascrivibili a allucinati, ascrivibili a missionari, quelli che uccidono per pulizia morale. Quindi non solo last killer, quindi assassini a sfondo sessuale, ma anche altre motivazioni ci potrebbero essere. Andrebbero studiati questi casi e poi riportati alla ribalta, ma studiati in maniera scientifica. Perché le prostitute? Perché sono le vittime d'elezione, in tutto il mondo. Quando parliamo di livello di rischio della vittimologia, le prostitute, i minori e gli anziani sono al primo posto. Prostitute proprio in primis, per quanto riguarda gli assassini seriali, eccetera. Sono più esposte e anche più deboli? Non più deboli, sono più esposte perché si devono appartare, si devono incontrare con persone che non conoscono e di conseguenza rischiano di più degli altri. Ecco, qui vediamo un'immagine, presa ovviamente da internet, questa è un'immagine che risale sicuramente a 30-40 anni fa. Succedesse oggi non troveremo tutta sta gente intorno? No, assolutamente, perché la gran parte degli errori che sono stati commessi negli anni passati sono dovuti proprio alla presenza di persone estranei o anche di persone che non avrebbero dovuto stare sulla scena del crimine. Della serie, come dice Edmondo Carr, diceva, grande criminologo francese, principio di interscambio, e ogni contatto lascia una traccia. Se io arrivo, investigatore, che sono il primo a poter inquinare e contaminare la scena e lascio, che ne so, impronte di sangue sulla scena, vedi caso Cogne, è chiaro che poi vado a inficiare il lavoro degli altri. Quindi la scena va protetta, delimitata e addirittura se ci sono macchie di sangue per terra bisogna mettere degli sgabelli di plastica e camminarsi sopra, non camminare sul sangue. Quindi preservarla in ogni modo, perché la scena del crimine è la fotografia sfocata dell'assassino, quindi è molto importante. Ecco, qui vediamo, in questa rassegna stampa, l'abellone uccisa con un rasoio, si usava veramente anche metodi un po' grezzi per... Dobbiamo pensare a ciò che si utilizzava tutti i giorni, cioè tante volte stiamo parlando in linea di massima di assassini disorganizzati, non organizzati, quindi uno utilizza quello che usa normalmente, quindi il rasoio ha sempre avuto un impatto anche dal punto di vista cinematografico, no? Fa scena il rasoio, per cui alcuni assassini o alcune persone anche disturbate l'hanno utilizzato per uccidere, perché poi ha una capacità di taglio capace quanto al bisturi, insomma, più o meno, ed ha anche una valenza in più rispetto alle altre armi. Questo rasoio che viene brandito alla luce magari della luna e poi uno si abbassa, eccetera. Quindi c'è questo collegamento. Ecco, Francesco, questo è un lavoro, una fatica che riguarda i delitti a 200 km da noi. Sì. E sui nostri delitti mi hai pensato di... Ma sui nostri l'unico problema è riuscire ad avere il materiale in procura, cioè avere i faldoni, fotocopiarli, quello è... Presumo che ci siano casi di cui non c'è più nulla. L'avevo già sentito in una trasmissione che avevamo condotto qui insieme, proprio sul tema dei delitti del nostro di Udine, che un fascicolo in particolare del 71 credo sia scomparso, cioè non ci sia più, non esista più. C'è la registrazione, te la vai a vedere. Succede a volte. Anche a Ferrara abbiamo trovato problemi di questo tipo, fascicoli che non ci sono stati dati perché hanno apposto il segreto sulla privacy, che non ci sarebbe perché sono dati pubblici. Altri fascicoli che non si trovavano più perché erano stati spostati, chissà dove sono finiti dopo tantissimi anni. Quindi non è semplice, è facile. Ecco, un delitto irrisolto recente che ti sta affascinando? Sto trattando un caso di cui non farò nomi per riservatezza, di un adolescente 17enne morto annegato, dove ci sono dubbi sulla circostanza della morte e quindi sto lavorando su quello per dare delle risposte ai familiari. Gli assassini sono sempre, allora le vittime, adesso ne hai nominata una di 17 anni, gli assassini sono sempre più giovani? No, le vittime dicono gli assassini. No, non sono sempre più giovani. Abbiamo delle vittime giovani che attengono però a risse, ai fatti come abbiamo visto del carabiniere morto, insomma. Quindi adolescenti che non hanno ancora il controllo di determinate pulsioni, direbbe Freud. E che quindi si danno all'alcol, si danno agli stupefacenti e poi fanno cose inaudite. Spesso sentiamo di risse con accoltelamenti anche da parte di extracomunitari, eccetera, che è abbastanza normale per quel tipo di culture. Per la nostra ormai è abbastanza in via d'estinzione la cultura dell'accoltelamento. Ormai ci siamo passati, era tanti anni fa che si utilizzava questo tipo di cultura. Il parlare con l'arma o il delegare al coltello ciò che noi abbiamo in animo è una cosa che ormai abbiamo superato, per fortuna. Però no, direi che attengono a tutte le età. Certo, i più giovani sono più a rischio. Non ci più ho. Parlavi dell'alcol, quindi prendono coraggio. Sì, prendono l'alcol, unubila proprio il pensiero, la capacità di critica, di coscienza, attenua la paura. Quindi sì, prendono coraggio, però altera le funzioni psichiche, cerebrali, psicologiche, così come le sostanze stupefacenti. Addirittura sappiamo che Esbollah producono ancora il Captagon, che è la droga che hanno utilizzato i terroristi a Parigi. Sì, quindi droghe capaci di non farti sentire paura, sonno, fame, eccetera. Francesco Altan vive nella bella San Vito al Tagliamento. È un'area che ispira, si vive molto bene? Si vive molto bene, la qualità della vita è molto alta. È un comune che offre molto dal punto di vista di iniziative sociali. Direi che è uno dei borghi più belli d'Italia, senz'altro. È tutto bello, ma tu fai un mestiere che non tratta argomenti. È il posto ideale per lavorare. Perché? Perché sei tranquillo. Perché sei tranquillo? Sei tranquillo, hai una cornice architettonica adatta, secondo me. La tranquillità è la miglior cosa per poter lavorare a questi casi. C'è un'opera a quale stai pensando? Adesso sto pensando, con altri due giornalisti, stiamo lavorando al caso di Rossella Corazzin. San Vito al Tagliamento, 75, scomparsa, se ti ricordi mai trovato il cadavere. Perché dietro a questo caso c'è Angelo Izzo, quindi la banda del mostro di Firenze, scusa, anche quello. Ma prima ancora c'è la banda del mostro del Circeo e poi ci sarebbero anche implicazioni con il mostro di Firenze. Quindi una storia veramente incredibile per quello che c'è sotto. Le indagini? Le indagini furono fatte anche Benino all'epoca, poi riprese dalla DIA qualche anno fa. E la DIA ha fatto un signor lavoro di ricostruzione e tutto. Le piste erano e rimangono o, se fosse confermata, quella di Angelo Izzo, oppure altre piste possono essere sette esoteriche o sette parareligiose che erano presenti in zona in quel periodo. Francesco, grazie. De nada. E torna quando vuoi. Delitto nella nebbia, libro grazie a Tiziano Campigotto, quindi con questo primo piano, l'ultima fatica di Francesco Altan che rincontreremo molto volentieri. Buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Noi adesso ci fermiamo, pausa e poi torniamo qua. Noi adesso ci fermiamo.